Ciao a tutti ragazzi sono sempre io il vostro amico Federico Nati Cinquita e si eccomi qua in un nuovo vlog Ragazzi non facevo un vlog da veramente moltissimo tempo Se andate a vedere sulla mia fanpage a ogni post scrivevo oggi vi faccio il vlog, oggi vi faccio il vlog Ma ragazzi come avete potuto vedere nel video della guida Se ancora non avete visto la parte numero 16 della guida dove spiego la mia breve assenza Saranno stati circa 5 giorni potete capire perché non ho potuto caricare i video Ci sono stati diversi problemi al di fuori di youtube ragazzi Quindi in quei giorni non ho caricato video Quindi ragazzi cosa posso dire in questo vlog? Molte cose, quindi seguite il video ecco Parleremo di news, mi avete chiesto molti di fare i video sulle carte Non solo della guida, parleremo della guida stessa Come potete leggere questo mezzo dal titolo mi faccio gli auguri da solo Anzi qua sotto perché ormai il titolo non sta più sopra ma sta sotto Quindi ragazzi mi faccio gli auguri da solo Divento maggiorenne faccio 81 anni Non so perché la telecamera dà questo effetto Comunque ragazzi fa niente Quindi 81 anni, mettete like per gli 81 anni Mi avete fatto anche voi tantissimi regali ragazzi Grazie a tutti veramente Per varie cose, tanti 4200 iscritti Grazie grazie grazie, già vi avevo ringraziato nella guida Ma per le 800.000 visualizzazioni Grazie tantissimo ragazzi E vi ringrazio ancora per tutti i regali che mi avete fatto Adesso là ho una marea di buste da aprire Ce ne saranno 7-8 Adesso non lo so E mi sono arrivati un po' stamattina Un po' ieri Comunque puntuali A quel che ho compilato mio era ieri Solo non ho come ho detto Non ho potuto caricare video Anche perché 18 anni Feste Ogni secondo squilla il telefono Parenti Quindi ragazzi Non ho avuto proprio il tempo Di mettermi là a fare un video Quindi faccio un video questa mattina Lo caricherò oggi E quindi ragazzi Grazie per i regali che mi avete fatto Adesso ne ho aperto giusto uno Aspettate che è di XJBXX Mi fa questo regalo veramente Bello Molto apprezzato ragazzi Perché Era l'ultima carta numero Che mi L'ultima Che sarebbe Numero 107 Drago Galatti Occhi Galattici Che era l'unica carta numero Che mi mancava per finire tutte E passando al discorso carte ragazzi C'è sta una Certa Maria No Non lo so Una ragazza di Youtube E molti altri Che mi chiedono spesso Di fare video Di Carte di Yu-Gi-Oh Di farvi vedere la mia collezione di giornata I miei video Però ragazzi Capitemi O faccio la guida O faccio quello O faccio quell'altro Perché sennò dovrei fare Un giorno un video di Pokemon Un giorno la guida Un giorno un video di Yu-Gi-Oh E sarebbe un po' Macello Quindi io direi ragazzi Che per ora Finchè non arriviamo A dicembre Che esce Pokemon X E Pokemon Y E Esce Pokemon X E Pokemon Y È un gioco di carte Ecco Compro i box in giapponese Quindi ragazzi Fino a lì Continuerei con la guida Siamo già arrivati Da parte numero 17 Fino a dicembre Spero di arrivare Almeno alla parte 50 E di riuscire a finire il gioco Ecco Prima ci leviamo la guida E prima torniamo Con il trading card game Ragazzi Cosa dire altro Vi ho fatto un po' di discorso E questo è un discorso Molto particolare Che mi avete chiesto in molti Fai dei video di carte Queste cose qua E vabbè Quindi ho già detto A dicembre Box Y 3 ce ne scappano Sicuro ragazzi Anche per te Perché Come regalo 18 anni Mi hanno fatto Dei bei regaloni Che adesso vi faccio vedere Innanzitutto Se mi seguite Sulla fanpage Ragazzi Seguitemi Perché Siamo arrivati Questi a 500 Mi piace 500 like Porca miseria Mancano soltanto 10 like E arriviamo a 500 Dai ragazzi Impigiate sto pollicenzo Sulla fanpage Quindi Mi hanno regalato Questo gioco Ben gradito Ragazzi GTA 5 Che io Lo volevo da troppo tempo Solo che Non riuscivo proprio A prenderlo Quindi grazie Che me l'hanno regalato Ringrazio i miei zii Ecco Anche se non guarderanno I miei video su youtube Lo so Per certo Perché manco lo sanno Quindi LOL E questi Vabbè Da tutti gli altri familiari I big money Ragazzi Sono circa Ma ti so 250 euro Eccoli Che con questi Ci comprerò Ecco I box O qualcos'altro Per youtube Ecco Comunque non pensate Che sia ricco Ragazzi Che la famiglia mia È grande Zii Nonni Cugini E tutto 50 euro a persona Alla fine Manco è tanto Per una festa di 18 anni Però comunque 250 euro Big money Ecco 18 anni Ripeto Maggiore anni Quindi Agli altri compleanni Mi posso regalare Questo un gioco Ecco Però per i 18 anni Mi hanno fatto Questo un regalo Quindi Grazie 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 Con questi soldi Ho già detto Ci comprerò Poggio X Cosa dire Altro Ragazzi Siamo già arrivati A 5 minuti Per quanto riguarda La fanpage Seguite Mi troverete Tutti i link Qua sotto Nella descrizione Ad ogni mio video Ragazzi Controllate La descrizione Perché Magari Non lo volete Vedere tutto Magari C'avete un conto A tempo E non Non riuscirò A vederlo tutto Magari Sotto Potete leggere Tutte le informazioni Sul video La guida di Pagomibsion Faccio delle determinate cose Però il video Dura 20 minuti Non riuscirò a vederlo Sotto ci sarà tutto Il riassunto Quindi Leggetelo ragazzi Anche perché Mi dubbi uccide Quindi Grazie Ringrazio ancora tutti Niente Cosa potrei dire Altro Ringra Ecco ragazzi Volevo Come dire Farvi conoscere Un utente Che si chiede Due utenti Che si chiamano Gli scatenati Pitones Non so se Già li conoscete Sono due utenti Veramente Formidabili Ecco Che fanno video Comici E a me ragazzi Quando sono triste O Ovviamente sono arrabbiato Mi guardo un video loro E rimango così Così rimango Quindi ragazzi Andateli a vedere Tu vedete il link Del loro canale Qua sotto In descrizione Io non faccio mai Ecco Sponsorizzazioni Ragazzi Anche perché Se li faccio a loro Li dovrei fare a tutti Ma loro sono veramente Formidabili Ragazzi Andateli a vedere Vi faranno ammazzare Dalle risate Veramente Hanno 400 iscritti Solo Anzi solo Sono tanti 400 iscritti Quindi andate là E aumentate A crescere E a farli notare Un po' di più Perché sono veramente Fantastici Quindi detto anche questo Cosa possiamo dire? Fammi pensare Pensa 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 E niente Partecipate alla raffle Per i 5000 iscritti Ragazzi Manca veramente poco Mancheranno 800 700 iscritti E potete vincere 10 ex full art Non mancate Ecco Andate a partecipare Il link lo trovate sempre Qua sotto nella descrizione Controllatela sempre Ragazzi E niente Vi ringrazio ancora Per i 4200 iscritti E da fare un altro Cinque video è tutto E ci vediamo Al prossimo vlog Bella raga Ciao